Io ho lanciato una rubrica su Facebook che si chiama in modo gogliardico le cronache di Boldrinia prendendo le notizie che quotidianamente campeggiano sulle agenzie di violenze, di ruberie, di scippi, di spacci anche di stupri o persino di omicidi che le cosiddette risorse della Presidenta Boldrini arrivano sul nostro territorio. Inizialmente avevo timore che non vi fossero sufficienti notizie per un post al giorno di post al giorno ne vengono fatti anche tre invece purtroppo e questo significa che le cosiddette risorse sono in giro a delinquere dalla mattina alla sera sul nostro territorio quindi oltre che pagarle economicamente per mantenerle abbiamo anche dei costi di carattere sociale mettendo a rischio la nostra sicurezza e la nostra incolumità. Di conseguenza alla Presidenta Boldrini dovrebbe persino venire in mente che se lei le ritiene risorse le possa prendere tutta casa sua perché sul territorio queste risorse fanno danni e ne fanno parecchi a volte purtroppo arrivando a distruggere la vita di donne o di intere famiglie.